Parliamo oggi del topolino 35 e 72. Iniziamo. Amici, bentornati sul canale, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga film e telefilm. Sto di nuovo con l'influenza. Chiusa parentesi. Oggi, quindi, scusatemi se sarò un po' più un moschetto del solito, ma parleremo comunque di questo nuovo numero del topolino e delle sue storie. Ma come al solito, partiamo prima dalla copertina. Una copertina che, come si vede, dà l'idea di un qualcosa di molto riposante. Sarà forse lo sfondo di questo disegno, con questo colore blu veramente molto intenso, ma anche, appunto, riposante per gli occhi. Bellissima tonalità, mi piace molto. Quella che... E poi, sopra questo sfondo, abbiamo questa serie di personaggi che sono fotografati quasi in maniera statuaria, ma che nel loro essere così, appunto, delle statue per la posa che hanno, sono anche molto dinamici e sembrano proprio circondare in un bel movimento nel personaggio principale, che dovrebbe essere Yannick Sinner. Io ho problemi di fisionomia, quindi ci sta. Però non ho elementi fisionomici che mi dicano è Yannick Sinner. Però, nonostante questo, me lo ricorda molto. Sarà forse l'atteggiamento del becco, il ciuffo di capelli, il cappellino. Però, comunque, nonostante non somigli al personaggio, o meglio, al tennista professionista, lo ricorda molto questo disegno. Penso di essermi spiegato, no? Vabbè, andiamo avanti. E la prima storia è dedicata proprio a questo personaggio. E si intitola, infatti, Zio Paperone e il coach inconsueto. Ed è una storia che praticamente sfrutta un po' il personaggio di Yannick Sinner, paperinizzandolo, ovviamente, per raccontarci non solo, quindi, i suoi trofei e i suoi trionfi, ma soprattutto, in particolar modo, quella che è la sua tenacia e la sua costanza che lo ha accompagnato così di anno in anno, di vittoria in vittoria, dopo tante sfide. Sfide che continuano e che quindi qui prendono un po' una narrazione che, posso dire, non è molto originale, ma che al tempo stesso, in questa poca originalità, ci ricama sopra alla maniera, ovviamente, disneyana. Ed è una maniera che, ovviamente, mi piace molto, perché, nonostante gli antefatti e quindi lo scontro tipico tra Rockerdach e Paperone facciano, quindi da base a questa narrazione, in realtà si allontana di molto da questa cornice una storia che quindi prende dei movenze completamente diverse, sfruttando un collegamento con il passato in questo flashback che apre la vicenda che si va a concludere nel momento di massimo stress del protagonista. Storia veramente molto, molto affascinante, delicatissima, disneyana per eccellenza, possiamo dire. E il disegno è anche, lui, molto interessante da vedere. Crea delle bellissime scene anche molto dinamiche, forti, di impatto, che sembrano portarci all'interno della storia e della sua tensione che quindi viene esplorata. E ovviamente lo fa con una linea abbastanza presente, ma allo stesso tempo riesce a costruire dei bellissimi volumi per i personaggi che si piantano all'interno della scena e che ci danno anche modo di capire anche tutta la bellezza del movimento di questo sport, costruendo così delle scene molto semplici e di impatto da vedere, da leggere, stringendosi sul personaggio o allargandosi e dando così anche il senso di quello che attornia e quindi dello scenario. E questo movimento si trova anche non solo all'interno delle scene, quindi nella posa dei personaggi, ma anche proprio come si può vedere in realtà già da qui, con questa impaginazione frammentata, possiamo dire, che scatta delle foto, ma anche ovviamente all'interno proprio dell'impaginazione vera e propria, con questi tagli di queste vignette che creano veramente tanta tanta velocità di lettura, proprio rompendo lo schema tradizionale. Veramente una bella lettura. Pippo Holmes in Una salsa in rosso. Storia veramente tanto, tanto, ma tanto affascinante, che riprende i personaggi della Disney e li piazza all'interno di personaggi del noto scrittore Sir Arthur Conan Doyle. Infatti troviamo un Pippo che veste meravigliosamente bene i panni di Sherlock Holmes e che quindi qui sfrutta le peculiarità del personaggio di Pippo proprio per dare ancora più forza e credibilità alle stranezze di questo Holmes. La storia ci presenta quindi tutti gli elementi in questa prima parte di quelle che sono un po' le introduzioni che ci vengono fornite per entrare meglio in questo mondo, in questo tipo di narrazione. Ed è quindi anche bellissimo poter vedere come, nel presentarci i personaggi e la dinamica che inizia a costruirsi tra di loro, ci presenta anche gli indizi di questo caso che Sherlock Holmes deve iniziare quindi a studiare. Storia veramente molto affascinante che ricostruisce anche la dinamica relazionale tra Holmes e il suo nuovo aiutante, qui interpretato da Topolino. Un Topolino che è sì geniale, come al solito, ma che questa volta fa il gregario e segue quindi finalmente Pippo. Viene quindi invertita un po' la tendenza solita. Veramente molto affascinante anche in questo racconto attraverso le memorie di Topolino che quindi è come se mettessero un mistero nel mistero di questa storia. Proprio perché in realtà la vicenda è raccontata come flashback nelle memorie di Topolino stesso. Ed è una storia affascinantissima soprattutto anche per il disegno. Un disegno che ha una bellezza veramente incredibile perché l'autore, Mottura, ci riporta a quella che è la sua linea, il suo stile che ricostruisce benissimo il periodo ottocentesco che qui viene raccontato. Non solo quindi nell'abbigliamento dei personaggi che però, devo dire, mantiene in realtà una semplicità di lettura a meno strati rispetto a quella a cui siamo abituati. Cosa che accade anche però nel raffigurare gli interni e soprattutto gli esterni di questa Londra ottocentesca che furiesce veramente alla grande proprio grazie allo stile di disegno di questo autore ma che appunto è come se avesse degli strati di approfondimento in meno rispetto a quello a cui siamo abituati. Ci sono meno contrasti, ci sono meno tratteggi come se si volesse un po' snellire questa narrazione e renderla un po' più veloce, un po' più rapida nella lettura costruendo così dei volumi più facili e veloci da leggere. Zio Paperone e la regale ispirazione Siamo a Caserta, siamo nella meravigliosa reggia di Caserta e siamo anche in una storia classicissima per quanto riguarda quindi l'ambientazione tipica della Disney. Infatti seguiamo Paperone in quella che sembra essere l'ennesima occasione con la quale si può fare grande e può fare grande la propria attività attraverso l'ultimo ritrovato tecnologico. Deve quindi pulire tutte le vetrate e le finestre della reggia di Caserta tramite un nuovo robot ma è seguito ovviamente dai bassotti che hanno però i loro intenti. Diciamo che seguendo e sfruttando questa linea narrativa forse poco originale ma molto funzionale riusciamo quindi a seguire anche quello che è l'intento dei bassotti ma soprattutto ovviamente attraverso questo loro losco intento anche a presentarci la storia di questa reggia e quindi anche proprio la storia in sé e per sé. Veramente molto interessante anche se però nelle ricostruzioni che vengono fatte a livello proprio storico in questa narrazione tra Paperone e i suoi tre piccoli nipoti mi sarei aspettato forse che la reggia ne uscisse un po' meglio presentata un po' più approfondita con qualche mistero in più come se appunto fosse l'edificio a raccontarsi. Forse c'è qualcosina che manca il che non significa che comunque sia una storia riuscita. E il disegno è anche questo molto interessante. Si sviluppa attraverso una linea abbastanza presente e molto morbida che costruisce anche in questo caso dei bellissimi volumi per i personaggi che risultano così essere veramente ben piantati e saldi nelle scene. E ovviamente tutto questo serve anche e funziona tantissimo nel raccontarci gli ambienti, gli angolini anche attraverso inquadrature e riprese sceniche di quella che è appunto l'architettura della reggia sia negli interni che negli esterni. Qui all'interno di uno dei porticati qui invece all'interno della sala del trono. Veramente molto molto affascinante soprattutto per questa ripresa aerea che con veramente pochissime linee e una semplicità narrativa proprio per immagini ci racconta la bellezza di questi ambienti, di questo luogo. Veramente tanto affascinante e ovviamente non manca un po' la firma di questo autore con questi becchi dalla punta abbastanza pronunciata. L'ultima storia che qui troviamo è Topolino e la spectralia atlantica terzo episodio, terza puntata. Siamo veramente alla resa dei conti perché qui tutto quello che è stato messo in ordine nella puntata precedente trova la sua giusta evoluzione, la sua giusta conclusione. È un po' una storia che come vi dicevo si basa molto su quella che è un po' la faida familiare che viene raccontata per cui non mi aspettavo nulla di diverso e anzi mi aspettavo questo tipo di evoluzione e anche questa specie di doppio gioco che viene messo in scena perché appunto c'è ben altro da voler proteggere e custodire. È un po' la tipica narrazione fantascientifica che qui viene quindi riproposta e che però ovviamente funziona veramente molto bene. A funzionare benissimo è anche la narrazione che porta a spiegare un po' quello che è accaduto nei secoli, nei millenni passati ma soprattutto è quella narrazione che nel non svelare la rivelazione finale e non vi dico altro mantiene alto un certo mistero e questo mistero però si macchia sempre di quel tipo di narrazione che stringe tanto l'occhiolino ai complottisti e che però in questo caso serve un po' a spiegarsi le cose attraverso gli indizi storici e artistici che nei millenni si sono succeduti e conservati e che sono quindi arrivati a noi che fino a questo momento non hanno trovato una risposta e che qui sembra quindi avere attraverso sempre una lettura un po' particolare tutta sua. Come si vede il disegno sostanzialmente non cambia. Quello che però è veramente bello da vedere sono le vignette e le splash page di questo stampo, di questo genere che appunto caratterizzano ancora di più proprio attraverso questo stile di disegno quella che è appunto la tecnologia e un po' l'archeologia dell'epoca sempre in questa chiave fantascientifica che sembra veramente fu riuscire da un film di fantascienza veramente molto molto affascinante soprattutto in scene come queste c'è una narrazione veramente molto filmica di impatto, di grande tensione storia veramente bellissima io mi aspetto forse o meglio mi aspettavo forse qualcosa in più ma funziona bene già di per sé e mi aspetto che questa possa essere rivista magari in chiave di una lettura di quello che accadde prima che poi il tempo passi e arrivino i nostri amici a fare le loro indagini una specie di retrospettiva che mi piacerebbe tanto poter vedere veramente tanto tanto affascinante tanti elementi che non appesantiscono ma rendono molto veritiero tutto quello che viene raccontato pur essendo appunto racconto di fantasia veramente molto sostanza molta cicciosità in questo tipo di storie molto molto affascinante mi è piaciuto tanto e poi guardate questa scena così che non so perché ma mi ricorda non tanto Atlantis della Disney quanto Stargate Atlantis veramente fantastico questo è quello che penso di questo numero del topolino vi aspetto nei commenti qui sotto fatemi sapere la vostra ditemi il vostro pensiero al riguardo e no non parlerò per il momento di Battista Maggiordomo Esistenzialista anche perché molto facile capire che sia stato piazzato qui per venderci poi lo spillato che in questi giorni si trova al Salone Internazionale del Libro a Torino quindi questa trovata commerciale pur di vendere un'ennesima cosa in più non mi piace quindi non ne parlerò più di Battista mi dispiace Alessio Menci scusami per tutto il resto commenti qui sotto ditemi la vostra e come al solito se questa puntata vi è piaciuta condividetela con i vostri amici mettete un bel mi piace fate iscrivere e iscrivetevi al canale attivando la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione vi trovate in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi Facebook e Telegram il Salotto dei Vicenziani io sono Dario questa è Recenso io sono sempre influenzato e ci vediamo venerdì prossimo sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia Disney ho detto venerdì intendo lunedì